Amici 3B Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Partiamo dall'immagine del satellite, molto interessante oggi. Ci mostro in Italia in realtà con pochi annuvolamenti, però il Mediterraneo centro-occidentale, come vedete, è carico di nubi, nuvole anche in Francia, sulla penisola iberica e questa nuvolosità è piena di sabbia. Sabbia che arriva direttamente dal Sahara spinta sul Mediterraneo da venti di scirocco attivati da un centro di bassa pressione che si sta generando tra la penisola iberica e il Mediterraneo occidentale. Ebbene questa sabbia sta raggiungendo anche i nostri cieli, senza grandi conseguenze in realtà. Dovesse piovere allora ci ritroveremo con macchine e balconi sporchi, ma grandi precipitazioni non ne avremo. Quest'area di bassa pressione infatti si avvicina un po' alle isole maggiori, la giornata di giovedì vedrà qualche goccia di pioggia sporca sulla Sardegna, poi venerdì per la verità qualche pioggia in più sarà presente anche nelle regioni meridionali, in parte per quest'area di bassa pressione che cerca di spostarsi verso il Mediterraneo centrale e in parte per l'arrivo di correnti un po' più fresche dall'Europa orientale. E in effetti guardate come temperature nelle prossime ore si starà anche bene con i primi tepori primaverili, però verso il weekend aria più freddina tornerà a interessare l'Italia. Nulla di eccezionale però nel fine settimana appunto calo delle temperature, dicevamo anche un po' di variabilità nelle regioni meridionali, invece purtroppo ancora totale assenza di precipitazioni al nord, situazione preoccupante, c'è un gran bisogno d'acqua nelle regioni settentrionali, ma l'acqua non arriva. Per tutti i dettagli comunque sulle vostre località scaricate e consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.